Vedi un po' se si vede, buonasera, bentornati, ben ritornati, eccoci qua, oggi siamo qui insieme a un ospite speciale, ovvero il grandissimo Surmacchio, grandissimo, bella raga, what's good, what's up, crpaw paw, madonna Surmacchio, voi non lo sapete, ma Surmacchio è un fan di quelli proprio datati, proprio fedele, HS numero uno proprio. E questo è per motivare tutti i pischelletti che ci guardano da lontano, anche voi potete arrivare qui su questa sedia un giorno da fan che guardate da casa, potrete arrivare qui e raccontare tante belle storie di come siete diventati ricchi e famosi, addirittura, più di lui. E che fai nella vita per essere così ricco? Mantenuto. No, faccio trading sui grafici di crypto e borsa e comprate il mio nuovo corso, il link facendo punto esclamativo Prime, comprate il mio nuovo corso. Minchia, proprio, quindi fai proprio, ma veramente fai trading, fai corsi? Ah no, non fai corsi. Ancora no. E io pensavo che, insomma. Ancora no, ancora no. No, però, allora, in realtà non sono ricco, non sono famoso, purtroppo questo è soltanto il mio subconscio che cerca di convincere la mia testa. In realtà no, faccio lo youtuber normalmente, diciamo full time, negli alti e bassi comunque che richiede il lavoro, perché ovviamente ci sono momenti in cui bisogna lavorare tanto, momenti in cui magari ci riesci a rilassare, comunque come tutti i lavori, diciamo indipendenti in cui ti devi gestire da solo tutto quanto, cioè stanno arti e bassi, no? Sia a livello di stress, sia a livello di lavoro. Vabbè, ma in sostanza che fai? Faccio trading su... Allora, faccio video sul cibo, vado a mangiare, viaggio, mangio, basta. Quindi un content creator basato sul cibo, sul travel. Magno per lavoro. Ah, magni per lavoro. Magno per lavoro. Questo è il mio proprio... Il modo in cui mi piace... Sai che a me piace un po' descrivere questa cosa alle persone che meno ci capiscono in assoluto. Mi dicono, ma te che lavoro fai? Te che fai per lavoro? Io dico, magno per lavoro. Come magni per lavoro? Magno per lavoro? Mamma mia, minchia. No, è... Certo che magna per lavoro è... La rendo così ridicola, perché se io ti dico, magno per lavoro, dici, ma che sta a dire? Che fai? Il critico ti viene in mente. Oppure che fai? L'assaggiatore, magni... Non lo so che fai, no? E quindi la rendo il più confusionaria possibile per ridere. Perché tanto ci sono persone che vogliono capire e che non vogliono capire. Quindi lo capisci subito. Tu hai mai parlato con i boomer, magari che gli devi spiegare il lavoro che fai, no? Purca troia. Ma non sai quante volte... Tu li guardi e non li vogliono capire. Non lo vorranno capire. Cioè tu lo capisci già da come te guardano. Che tu, quando gli stai per spiegare... Sì, loro fanno una faccia come di... Non penso che vorrà capire. Cioè secondo me vorrà infieri ancora... Tipo, quindi non fai niente per mantenuto. Tu dici, io faccio i video online, eccetera. No, che non faccio niente non me lo vengono a dire. Però mi vengono a dire che, insomma, faccio un po' di cose particolari. Tipo, un lavoro un po' particolare, un lavoro nuovo. Dicono, ma quindi un lavoro vero? Esatto, esatto. Quindi un lavoro vero. Spesso sai cosa dico? Quando mi scrivono, mi dicono robe così per provocare. Cioè io passo sicuramente per arrogante facendolo. Perché purtroppo mi piace anche un po' trollare. La gente mi piace un po'... Perché io penso, quando sto su internet, ma esse serio, è troppo noioso a volte, no? E quindi magari quando uno mi dice, ma un lavoro vero, ma un lavoro vero... E c'è un po' di provocazione e anche un po' di denuncia sociale. Perché io, quando mi dicono, ma un lavoro vero, trovate un lavoro vero... E io, eccetera, dico, ma il lavoro falso non mi pagate più. E quindi è un po' una provocazione, ma non è una bugia. Perché io posso guadagnare pure un milione d'euro se faccio il lavoro finto, se magari sono un youtuber famoso, e mi dici, trova tu un lavoro vero. E tu dici, ma guadagno un milione d'euro. Dici, mi conviene di trovare un milione d'euro. Esatto, esatto, esatto. Ma ci stanno tanti lavori che insomma, tipo, guadagni tantissimo e magari, diciamo, non fai quasi nulla, quasi nulla. Tipo, ci stanno tanti lavori che... Alle poste? No, 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 quello no. Niente ricco, non fai niente. No, 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 le poste no. Io ci ho lavorato alle poste private. Davvero? Sì, sì, poste private. E poste, quelle invece, quelle pubbliche, poste italiane, quelle lì, sì, si guadagna bene, però insomma, anche lì è un lavoro, uè. Che sbata la responsabilità. Meno male che famo gli influencer, famo un cazzo, che ci frega, fammi i sordi. Quello che ti dicevo io invece erano tipo i lavori, tipo quelli che vanno là per, che provano le medicine. Cioè? Ah, quelli che tipo, però è una responsabilità, magari mori. Eh, lo so, però abbi un sacco di sordi per andare. Vorrei fare questo lavoro. Oppure per... Vorrei fare... Che vendi, vendi, vendi... Vendi... No, no, non sto scherzando, ci stanno quelli che tipo donano lo sperma. Eh? Donatori di sperma e guadagnano un sacco di sordi ogni sborrata. E parliamo proprio di te. Esatto. Proprio di te che stai guardando. Tu lo fai. Se vuoi diventare ricco, donano lo sperma e vedrai. No, ma lui già lo fa, lui già lo fa, lui che guarda già lo sta facendo. Sì, sì, sicuro, sicuro. No, no, comunque sì, in sostanza sono uno youtuber a tutti gli effetti, a tratti tiktoker, content creator che dir si voglia, posso fare un sacco di roba, tutte rigorosamente in maniera abbastanza mediocre, ma sufficiente. Quanto mi basta per essere tranquillo, contento. Ah, non vi ho detto il nome suo, cioè lui si chiama Surmacchio. Ah, mi chiamo Surmacchio. Su tutti i social, su tutti i social si chiama Surmacchio, praticamente possono trovare Surmacchio su YouTube, su Instagram. YouTube, Instagram, poi c'è anche TikTok, Facebook, Twitch, c'è stato di tutto, ma le piattaforme su cui lavoro principalmente sono YouTube, Instagram e TikTok. Quindi YouTube, Instagram e TikTok, video verticali, video lunghi, orizzontali. Sempre video dove magni. Magno, e basta. Però mi dicevi prima di fare la live, prima di attaccare un attimo il salotto, ci ho fatto due chiacchiere, mi ha detto che tipo faceva video di Eurotrack tipo? Sì. Dove... Ai tempi sì, qualche anno fa facevo il suo lavoro, ovvero fare le live su Twitch e guidavo... Cioè ero diventato virale e facevo questo full time, guidavo un simulatore, guidavo su Eurotrack, che è un videogioco dove simuli un camionista. E va in giro, io mi ribaltavo, le clip su TikTok andavano virali, tipo milioni di views. La gente veniva su Twitch a guardarmi e lì ho iniziato veramente a entrare nel mondo, cioè... Prima di quello era... Infatti io ti ho detto, in una settimana sono passato da AVE 30 aspect, AVE ce ne 500 e facevo veramente tanti abbonamenti, tante cose, tanti rumori, tanti casini e io ero uno molto che faceva casino, cioè ero uno molto attivo. E questa cosa mi ha portato in burnout fisso, perché io non ho visto quella roba. Burnout perché proprio... Burnout perché eri troppo lavoro... Troppo lavoro, troppo stress, ma più che altro troppo attivo e soprattutto una cosa che per fortuna col senno di poi mi sono accorto e ho corretto, mi è capitato di montarmi pure la testa, capito? Cioè vedi tanti soldi, tante cose, tante attività, tanti specchi all'inizio... Ah, questo è proprio l'errore che fanno un po' tante persone, che tipo quando vedono un po' di views, un po' di fama, un po' di roba, magari vedono le persone che ti sono andando per strada, allora si montano subito la testa dicendo... Se creano quel mondo, diciamo... Come posso dire? Quel mondo... Sì, un mondo tutto loro, un mondo fatato. Esatto. Io diciamo che ho sempre fatto live su Twitch, però stavo sempre nella mia nicchia molto stretta di persone, non facevo chissà che, no? Trovamme in una settimana a essere ricoperto da milioni di visualizzazioni, migliaia di euro, tante... Migliaia di euro? Vabbè, qualche migliaia, avrò fatto un millino al mese, due millini al mese, perché per me... Ma pulito? Parli di pulito o di fatturato? Cioè qua un attimo... No, tra Twitch e YouTube, dico, cioè in tutto... Eh, ma sì, sì, dico io. Io partivo da non fa niente. Da zero? No, da zero. Comunque io facevo le mie boh 50 sub, 100 sub. No, forse nemmeno. Immagina che io dal nulla sono arrivato a essere uno streamer, non dico big, ma veramente iniziavo ad avere una responsabilità grossa. E mi stavo a cacare sotto. Però sta cosa mi ha fomentato e allora ho iniziato a montare la testa e sono andato in burnout perché lavoravo troppo, volevo di più, facevo eccetera eccetera. Da sta cosa mi ha portato a morire subito, no? Morire sui social o proprio... No, sì, 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 so subito crollato dei numeri dopo poco perché appunto ho iniziato a stremmare meno, tutto quanto. Quindi in poco tempo mi sono andato in burnout. Questo è anche perché... Tutto è un casino. Questo perché anche Twitch... Ero anche giovane. Questo perché anche Twitch insomma ti dà... Insomma devi star lì incollato su Twitch, non c'è una possibilità insomma che dici che ne so, faccio un'ora di live a settimana e riesco a tirar su una community, no? No, l'agenda vuole vedere... Cioè Twitch purtroppo è così, non c'è stata disco di veribilità. Poi ai tempi per fortuna... No vabbè, ai tempi io comunque avevo... Ecco una cosa che ai tempi mi ha veramente fatto montare la testa è che io avevo notato che dopo di me sono iniziato ad arrivare molti streamer che usavano lo stesso modo che usavo io. Cioè clip a spam e tutto quanto. Questa cosa mi ha... Cioè tuttora ne vado ai tempi orgoglioso perché dico ammazza figo dai la gente ha imparato come si diventa... Come faccio io, sì. Il trucchetto, no? Il trucchetto. Però ai tempi ero casatissimo, diciamo ammazza guarda questi che come c'è sono grande, sono un fenomeno, no? Madonna. Mi so... ma sentivo calla. Però ero... Te la sentivi calla? Sentivo calla. Però ero... non è che ero giovane anagraficamente, però ero piccolo di maturità sui social. Non ho mai lavorato sui social. In poco tempo ho fatto prima lo streamer full time, poi sono quittato subito e ho iniziato... Perché mi sono detto io non voglio fare sta roba però, cioè va bene che ok, sto qua seduto col culo per terra. Molti che guardano magari vogliono fare gli streamer da grandi eccetera... No. A parte lasciate perdere. Lasciate perdere. Ma molti mi diranno... Ma che sei uno scemo? Fa duemila euro al mese? Ma come uno scemo? Col culo su una sedia, due ore al giorno? E quitti tutto per andare in giro, per viaggiare, per mangiare eccetera eccetera... E regà sì, io non lo reggevo... Cioè ero proprio fritto, c'era proprio il cervello fritto totalmente, stavo affumato alle orecchie, no? E allora ho detto io voglio scollarme dal culo su una sedia, sto tutto il giorno col culo sulla sedia, voglio vedere il mondo, voglio vedere le cose eccetera eccetera... E poi inizio a viaggiare, inizio ad andare dagli amici miei a Napoli, vado in giro, faccio i video dove magno, tutto quanto... Inizio ad andare bene su TikTok, io ho switchato proprio così, non si sa come... Io facevo gaming su TikTok, facevo gaming e streaming, proprio sul principale, ho switchato totalmente, ho iniziato a fare video dove magno le cose, le cazzatine... Andavano bene, io ho detto questo è un segno, allora inizio a esplorare e da lì la mia missione è sempre stata... Ok, adesso cerco di uscire il più possibile da qua, cioè io sono sempre stato rinchiuso qui fino a 20 anni, 21 anni, sempre rinchiuso nella mia bolla così... E in questi tre anni ho visto, imparato e fatto esperienze, conosciuto persone più di tutta la mia vita, è una cosa assurda, allucinante... Io sono grado sicuramente di riuscire a fare questo mestiere, di poter vantarmi di fare questo mestiere, perché io farlo youtuber lo sognavo da quando avevo 9 anni, 10 anni, che io facevo i video stupidi, coi montaggi stupidi con l'amico mio, delle elementari, delle medie, a 10 anni... Su che gioco? No, 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 facevamo i cortometraggi, con il telefono con mega video... non penso che trovo... no, forse qualcosa trovo, forse... Con mega video? Facevamo i video stupidi col telefono con un megapixel... Ah, un megapixel! Sì, era... Ma un megapixel è tipo... la merda della merda! Quei telefoni con la tastiera che... Sì, sì, Nokia, Nokia, quelle cose lì, tipo... È terribile, no? Mamma mia! Che ricordi! E quindi, quindi niente, mo' mo' so' curioso, perché voglio portarmi giù, voglio portarmi per vederlo, perché... In tutto ciò come si sente? Se vede bene? Se sente bene? Vado un attimo a vedere, a verificare se si sente bene... Vediamo? Lui sta verificando un tanto queste robe... Scordati che mi conosci... Ok, se vede e se sente bene, dicono, perfetto... Oh, meno male... No, io... Eccolo qua... Cioè, io faccio i video con... Con questo amico mio... Poi eravamo stupidi... Immagina che qua c'avevamo... Minchia... Questa sono io... Ma... Oddio, questo non si può far vedere, però... No, no, questo non si può far vedere, ma perché mi ero fatto male, tipo... Ma per fin da o proprio... No, 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 ho cercato di scavarcare una roba... Mi sono fatto male, questo era l'amico mio... Vabbè, mo' ho caricato sette anni fa, perché l'ho messo privato... Però qua c'avevamo nove anni, dieci anni... Minchia, sette anni fa, quando ho iniziato a fare live io... E sette anni fa, fai conto che questo l'avevo scaricato dal 2011... L'avevo scaricato e ricaricato per avercelo io, perché ce l'aveva lui sul profilo Facebook suo... Mo, mo, questa cosa non si può far vedere, però... Cioè, no, qualcosa si può far vedere, aspetta, perché c'ho quest'altro... E io faccio... Io ho sempre voluto fare lo youtuber... Questo era l'amico mio... Qua, qua l'avevo trovato tipo un barbò... Mazzo, non si può far vedere niente... Minchia, sei il piccolo di tu... No, 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 sì, ma io ero... Piccoli maranza che crescono... No, sì, c'avevo dieci anni... Vabbè, io volevo fare lo youtuber da grande tutta la vita, no? Un maranzino eri? No, 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 ero uno sfigato, ero in realtà il bullizzato... Che però poi è diventato bullo... Poi è diventato di nuovo sfigato... Una tragedia... Però, vabbè, io ho fatto sta che... Dodici anni dopo... Anzi, tredici anni dopo... Coronato il mio sogno... Dopo tredici anni a rompere i miei coglioni... A cercare di fare qualsiasi cosa... Perché io lo ammetto... Io da Pischello, quale, adolescenza e tutto... Avevo stoppato un po' per qualche anno... Però io ho sempre cercato di diventare qualcuno... Cioè, non ho mai detto... Ho detto... Oh, lo voglio fare... Per passione... Per sempre... Nel frattempo faccio un lavoro convenzionale... Io volevo fare proprio lo youtuber... Io voglio... Voglio guadagnarmi da vive... Facendo lo youtuber... Era proprio chiaro... Quindi è proprio il tuo... Sì, ero proprio chiaro... Facendo quello che mi piace, sicuramente... Quindi non volevo forzarmi troppo... Però... Avevi già un obiettivo quando eri piccolo... Allora, l'obiettivo era diventarlo youtuber... Come? Perché seguivi... Non lo sapevo... Eh, ma perché? Perché seguivi qualche canale su YouTube... Io immagino, non lo so... Claudio Di Biaggio... Daniele Doesn't Matter... Canesecco... Ma chi è Claudio Di Biaggio? Claudio Di Biaggio... Non è venite questo tubo... Quello... No, non è pelato... Ah, non è Claudio quello pelato... Ultimamente sta a fare delle robe... Con Dare Morci è uscito... Tipo... Delle cose faceva... Cioè, in live da lui... Però comunque so, youtuber... Proprio dei primissimi... Io, il primo gaming che trovavo... Ora, non so se... Non esisterà su YouTube... Probabilmente il canale sarà chiuso... Parte Zeb 89... No, parte Zeb 89 anche... Però... Ipezza 1... Non sono mai diventati famosi... Quindi nessuno li conosce... Ipezza 1... Ipezza 1 facevano i gameplay... Di GTA San Andreas... Sugli easter egg... Su dove trova le armi... Riprendendo con la fotocamera... Lo schermo... Sì, sì... Mi ricordo... Sta cosa me la ricordo... Che tipo... C'avevano la fotocamera... Tipo quelle... No, ce l'ho di là... Aspetta... Quelle... Tipo le canonissime... Quelle vecchissime... Sì, sì... Ce l'ho qua... Ce l'ho qua... Eccola... E... E sì... Riprendevano lo schermo... India... Con queste qua... Sì... Tipo queste... Esatto... Tipo con queste... Mamma mia che roba... Con queste qua... Con queste qua... Tu mettevi la mano dentro... Riprendevi là... Lo mettevano sui... Sulle pile di libri... Sulle pile di libri... Sulla... Sul tavolo... Riprendevano lo schermo di loro... Andavano agli easter egg... A vedere le cose... Facevano i gameplay di GTA San Andreas... Che poi all'inizio... All'inizio... Non si trovava nemmeno... I treppiedi... Niente... Zero... Erano rarissimi... Era rarissimo... Se trovai quei treppiedi... Poi vecchissimi... Infatti... Cioè... Tipo... Qualsiasi cosa ti serve... Amazon... Click... Ne trovi mille... No... Ma anche se vai al supermercato adesso... Vedi tipo quei treppiedi... De plastica... Che si tiene sulle mani... Ah sì... Self stick... Esatto... Prima non era... Non era così... Era terribile... Sì sì... Comunque... Dopo 12 anni... Cos'è... Riesco a fare... Lo youtuber... Con una cosa che non mi sarei mai aspettato... Di fare... Perché... Mi è venuta totalmente a caso... Cioè... Io sono andato a Napoli da un amico mio... Con l'idea... Di andarlo a trovare... Andiamo in giro... Eh... Fammi mangiare due pizze... No... Andiamo in giro... Così... Ho fatto dei TikTok... E mi sono detto... Ma perché non vloggo questa esperienza... Ho vloggato l'esperienza... Questo su YouTube... Ah... Così... A caso proprio... A casissimo... Non c'era l'idea di fare food... Io ho vloggato... E questo video ancora esiste... Cioè... Si può trovare... Un paio d'anni fa... E' uscito due anni... Tre anni fa... Ma era editato... Tagliato... Com'era? Era editato benissimo più dei video di adesso... Ah... Perché io ai tempi... Non avevo niente a perdere... Cioè... Ci mettevo tutta l'anima... Adesso... Sicuramente i miei video hanno... Una linea da seguire... Perché devono essere... Godibili... Non ci posso mettere tutti gli effetti di cose... Perché la gente si deve concentrare... Anche no... A vedere quello che sto a fare... Che poi come hai detto tu... Deve essere un lavoro... Cioè... Deve essere un lavoro... Quindi devi pure guadagnarci soldi... No beh... Deve essere sostenibile... Non ci posso mettere sei anni a fare un video... Ai tempi ci mettevo tutto il tempo che mi serviva... Perché non era il mio lavoro... Adesso io se ci metto troppo a fare un video... E arrivo tardi con le pubblicazioni... Comunque il video si chiama... Napoli non me l'aspettavo... Tipo... Ed è il mio primo vero vlog... Dove io sto a Napoli... Per la mia seconda volta in vita mia... Ma primavera volta in realtà... Ed è incredibile... È uno dei miei video tuttora preferiti... A livello anche di storytelling... Tutto bello... Poi ci sono dei plot twist... Ci sono... Cioè... C'è proprio... Pare il video dei Malloro... Pare il video dei Malloro... De che tipo plot twist? C'era il coronavirus... Quindi puoi immaginare... Tutte cose... L'amico mio che... Stavo a casa da lui a mangiare gnocchi con la madre... Lui dice... Ma io... Ma questi gnocchi hanno qualcosa di strano... Lui dice... Perché... Non si sentono molto bene... E io dice... No sono buono... Sono buono... E lui fa... Aspetta un attimo... Prova a bere... Non sento più sapori... E io rischiavo di rimanere incastrato a Napoli... Oh porca troia... Perché io dovevo andare via... E fai conto che era sotto Natale e Capodanno... E io rimanevo... E rischiavo di passare Natale con questi qua... Che comunque è la prima... Dentro casa di questi poi... Sì esatto... Di questo amico mio a Natale... Quindi tutti i plot twist eccetera... Poi... Non spoiler... Il video c'è... Potete andarlo a vedere... Napoli non me l'aspettavo... Cioè sto io così col face palm... Con Napoli... E... È uno dei miei video preferiti tuttora... Però... Da lì è partito tutto... E... Cioè pare che sto a fare sta roba da dieci anni... Ma so tipo due anni... Due anni pieni diciamo... Due anni... Due anni pieni... Due anni e mezzo pieni... E vedrai tra otto anni quello che sarà... Eh madonna... Non me lo posso immaginare... Infatti... È assurdo... Cioè... Ho imparato talmente... Ma so passati solo due anni... Forse tre... Non lo so... Ormai non mi ricordo manco più... Cioè è passato così poco... E ho scoperto un sacco di roba... Ho viaggiato l'Europa... Ho viaggiato l'Italia... Ho scoperto un sacco di culture... Ho conosciuto persone... Ho magnato roba nuova... Che non mi sarei mai immaginato... A me piace... Scoperto cose... E ancora adesso sto scoprendo cose nuove... Nuove che... Sei mai stato all'estero? Come no? Sì... Sono stato nell'est Europa... In primis... Perché costa pochissimo... Cioè tu vai in Albania... Veramente... Stai una settimana... Con 100 euro dalla cavi... Secondo me... Cioè... È veramente una crema... 100 euro una settimana? Stai una settimana in Albania... Dove? Almeno viaggio alloggio... Poi magari... Ti godi la vita lì... Magni qualche... Ciofte... Qualche... Eh ma dove? Perché io già sono stato... 100 euro... Tirana... Tirana... 100 euro... Ma devi prenotare almeno tre mesi prima... Ma io sono bravo... A chittare le cose più economiche... Ah ma... Io sono riuscito a... Low budget però... Diciamo... Allora... Tirana te la godi comunque... Cioè per esempio... Sì sì... Perché... No io ce lo dico perché io già sono stato a Tirana... Però se ce vai il giorno prima... Per il giorno dopo... Quello che... I prezzi sono come... I prezzi non dico che sono come qua in Italia... Però... No no... Quello tutto... Sì sì sì... Poi in bassa stagione anche... Cioè tu in bassa... In bassa stagione... In bassa stagione grazie al cazzo... Ma il trucco è quello... Io quando mi finanziavo i video su YouTube... Basta stagione ovunque... Io andavo in Puglia... In Sicilia... In inverno... E lì pagavo il volo 6 euro... 6 euro un aereo... Andata... Come 6 euro? 6 euro andata... 6 euro ritorno... Ryanair... Bari... Una crema... 6 euro... Io spendevo una cacata... Spendevo proprio una cacata... E mi facevo tutti i video... 3 giorni... E infatti il primo tour estivo... Che tra l'altro... Mi sono finanziato con tutti i risparmi che avevo... Tutti i risparmi che avevo messo da parte... Gli ho buttati tutti lì... E in un'estate ho fatto 100.000 iscritti... In un'estate... E quella cosa... Io... L'intensità che ho avuto... Quell'estate... Non me la scordo mai... È una cosa allucinante... 100.000 iscritti... Scusami... Dove? Su YouTube o su Twitch? Ah su YouTube proprio? Su YouTube... Twitch l'avevo pisciato totalmente... Ormai... Non facevo più nulla... Fai conto? Stavo a 20.000 forse... Quindi avrò fatto 80.000 no? Però insieme a YouTube... Faci anche TikTok... Cioè tutti i tuoi insieme... Tante TikTok... Sì anche... Io ho visto che hai fatto tanti shorts... Sì 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 sì... Shorts... Dei video... Tutto quanto no? E io mi ricordo... St'intensità... Pensa che... Stavo tre giorni in ogni città... Una volta a settimana circa... Comunque tre città al mese le facevo... Per tutta l'estate ho fatto un tour... Proprio... Avevo messo addirittura la storia... Con le date... Con le date e le città... Proprio come se fosse un tour di una band... Che ne so... Un artista che fa il tour estivo... Cioè hai date... Tutto organizzato... Mi piace... Sapete perché mi piace? Perché tutto quanto organizzato... Preciso... È come me lui... Cioè proprio... Eh sì... A livello nerd... Sì sì sì... A livello tecnico anche... Cioè... Ci abbiamo in comune sta cosa... E io... Mamma mia... C'avevo tipo... Sei viaggi programmati... In anticipo dei due mesi... È una cosa incredibile... E... Io mi ricordo... Pronto ho perso... Perso tipo 5-10 chili... In un'estate... Mangiando... Ogni giorno... Robbe assurde per i video... Per quanto camminavo in giro... Ah... Cioè io camminavo ovunque... Andavo ovunque in giro... Questa cosa... Infatti... E nonostante mangiavo come un maiale... Un macello... Poi adesso... Ormai avrei recuperato tutto... Perché... Beh... Mi sono un po'... Vabbè... Ma no... Ma te vedo bene... Dai... Cioè... Eh... Ma tocca lavorare... Tocca lavorare ancora su sta roba... Infatti... Dici? L'idea sarebbe di evolvere questa cosa... Pian piano iniziando a capire... De fa palestra... De fa cose... Eccetera eccetera... Perché chissà che magari... Ormai... Per esempio... I gym talkers... Su YouTube... La palestra... Ste robe vanno un botto... Che magari dimagrisco... Divento un bronzo de riace... Inizio a fare la palestra su YouTube... Inizio a fare i video con Danny Enrico... Inizio a fare i video con Andrea Presti... In palestra... Cioè... Ma te immagini sta roba tipo... Da qui a qualche anno... Tipo come ha fatto Michael Spambinato... Come ha fatto tipo Michael Spambinato... Che lui è dimagrito... Un botto... Inizia a metti i muscoli... E fai... Capito quindi... Però adesso è passato tipo i motori... I motori... Sì ho visto sì sì... Non lo so se fa più qualcosa su... Sulla palestra... Non lo so... Però sarebbe una cosa figa... Prima o poi fa sta roba che tipo magari... Il problema è che... È il bello dei content creator ragazzi... Sì... Passi da una cosa all'altra... Fai quello che ti piace fa... Non potrò mangiare tutta la vita dai... Esatto... Però... Una cosa è sicura... Io non voglio smettere... E farò di tutto per essere sostenibile... Perché comunque devo portare il pane a casa... Devo mettermi da parte i risparmi... Devo guadagnare... Devo potermi togliere qualche sfizio... E devo pagare... Che sia l'affitto le bollette... Quando è... Quando mi dovrò... Fette, famiglia... Tutto questa serie di cose... Ma perché ne apri un OnlyFans? Ma come no? Non tu ne apro... Metto il pisello in mezzo all'HotDog... Oddio... Metto il pisello su un panino... E te lo mangi... Non è male... Non è male... Con la maionese... Fai fin da cadere tipo lo sperma... Vai mangi... Non è male il cazzo... Ci sarebbe... E quindi... Quindi che succede? Io mo... Come obiettivo... Ho... Cercare di portare YouTube ad un livello... In cui riesco a esplorare tutta Italia... Cioè mo' io mi sto fermando su Roma e Napoli... Perché è più sostenibile... Cioè almeno mi fermo... Faccio pian piano una cosa perché... Il fatto è che... Mi sono reso conto che in due anni... Ho un botto di roba... Esperienze e roba così... E poi mi sono detto... Minchia... C'ho 24 anni... Oia Dea ancora tutta la vita... Quindi mo' stiamo calmi... Quest'anno su YouTube mi concentro su Roma e Napoli... Per scoprire le cose nel dettaglio... Piano piano... Famo una cosa alla volta... E poi pian piano ci espandiamo... Perché ho visto un sacco di post in Italia... E in Europa... Mo' con calma... Pian piano... Vediamo anche... A livello editoriale... Di migliorare il canale... Di trovarmi avanti con le programmazioni... Fare... Lavorare meglio... Perché comunque voglio portare un po' la qualità... La gente a guardare le cose un po' più carine... Perché vorrei che... Vorrei stare più simpatica la gente... Vorresti diventare tipo... Ognuno è un safari tipo... Del cibo... Il mio sogno... Lui... Il safari già spacca... E lui ci mette comunque un sacco di food... Le cose... Sì sì... Ma io mi ricordo lui... Lui è un grande YouTube... Sì sì... Lui penso sia un... Ma io lo seguo da quando... Io l'ho seguito tipo dall'inizio... Lo seguivo... Io voglio... Dall'inizio all'inizio all'inizio... Esatto esatto... Ma... Sì sì lo so lo so... Non capisco perché... Eh non lo so... Se aprono due canali forse... Perché sai come uno magari troppo iscritti... Ma magari non lo so... Non voleva arrivare milione... Stava per arrivare milione... Ho detto no no no... Fermo... Fiamo tutto sul secondo... Ma pure il secondo sta arrivare milione... Visto? Eh sì... Boh lui due golden button... Così buttati... Pam... Ma magari al terzo canale... Ideme io... Si apre il terzo canale... Terribbino... Esatto esatto esatto... No no no... Io mi ricordo che lui tipo... Caricava video tipo di alta qualità... Ma proprio... Alta proprio... Ma tanto proprio... Si porta armacigno da Sony A7S3... Con il Cortambron enorme... Troppo troppo... Troppo grosso... Troppa roba... Io ci ho provato pure... Non si può fare... No ma io... Non so come faceva lui... Perché tutte le riprese precise... Color correction... Proprio fatte bene... Proprio tutto a modo... Ma anzi che lui va in mezzo ai deserti... Sui quad eccetera... Ma immagini io con l'A7S3... Cortambron così... In trattoria... Magna una pasta... Con questo coso così... No tipo... Buona sta roba... Con questo coso... Intanto i clienti... Ma che cazzo stia... Però c'è una cosa che... Almeno metto il telefono nascosto dietro la bottiglia... C'è una cosa che... Lui però adesso è passato tipo... Tutto... Fa tutto... Mi pare eh... C'è da quello che so... Fa tutto con l'iPhone... E mo fa tanto... 90% ormai con l'iPhone... Ma è... Ma l'iPhone è qualcosa di... Se lo gestisci bene... È un mostro... Ma non è solo l'iPhone... Perché alla fine i video... Adesso come adesso... I Samsung pure... Gli Xiaomi... Google... Fanno di video della madonna... Il fatto è che... L'iPhone... Essendo ottimizzato con i social... C'è già anche la telecamera carina... Eh... Fa tutto... Perché... Secondo me eh... Il Samsung... Adesso... Il top Samsung... È meglio del top iPhone... A livello di fotocamera... Secondo me... Ho visto delle cose... È meglio... Però immagina che comunque c'è... Tu vloggi con la... Col Samsung... E magari mentre devi fare le solite cose... C'è il sistema che... Purtroppo non è ben ottimizzato... Perché non è normale che fai tutto con l'iPhone... Però... Fosse per me... Se fosse ben ottimizzato... Samsung che c'ha la fotocamera meglio... Bam... E c'è l'iPhone come telefono normale... C'è i 7000 euro di telefono in mano... Sì sì... Voglio... Tutto così va in giro... Io pure... Ma mi sono trovato a... Appia un secondo telefono... Mi sono appiato un altro iPhone... Dove... Progetto... Non spoiler... Sto a fare una robetta... Con un secondo iPhone... Che fai? Eh... Una roba... Non si può spoilerare a zero... Voglio vedere dove si può arrivare... Voglio vedere cosa si può succedere... E in più... Oltre a questo progetto... Voglio... Cioè... Mi è utile perché... Magari serve leggere delle informazioni... Te presto la mia se vuole... Tanto questo vai... Fanno i video con questa... Ma questa tra l'altro che figata... Dopo voglio vedere come si vede tutte le cose... No... Non si mette qua... Sì sì... Questa cosa si vede una merda... È per quello si vede una merda... Sai che io mi sono comprata apposta... Al mercatino usato... Dell'usato... Una fotocamera di merda che fa video del cazzo... Tipo del 2004... Del 2005... Porca troia... Perché fa delle riprese bellissime... Te sa proprio di nostalgia... Quando... Magari ci stanno le cose... Uno a uno magari... Sì sì... Capito... È tutto nostalgia... No... Però beh... Chiuso parentesi... Che te stavo a parlare... Non mi ricordo che te stavo a parlare... Allora sì... Dei viaggi... Che adesso c'hai due... No... Mò c'ho il secondo telefono... Che mi è utile... Perché se devo leggere delle informazioni... O delle cose eccetera... Se riprendo con l'iPhone... E che doguardo... Che faccio... Cioè mi è iscritto sul blocco note... Almeno apro l'iPhone... E leggo... Se c'è bisogno di qualcosa... Informazioni... Che mi sono dimenticato... Cose che mi devo appuntare... Magari no... Oppure... Se per esempio... Uso un'app... Rispetto a un'altra... Roba così... Ma... Mi potrà essere utile in mille modi... Che ne so... Magari io ho uno script... Per una sponsor... Ce l'ho davanti... Non devo spegnere il telefono... Tutto bello... Preciso... Perfetto... Sì sì... Sì è una cosa chill... Quindi questo è il lavoro del Condem Creator... E in uno specifico... Di Surmacchio... Che fa apposta questo... E io tento di fare... Tento di trovare il compromesso tra... Fa una cosa... Qualitativamente... Godibile... Ma anche essere comodo... Perché a me per esempio... Avere il telefono è molto comodo... Però... Allo stesso tempo... Devo trovare il video che... Parlando invece... Parlando invece del cibo... Qual è stato il cibo più strano... Che hai provato all'estero? All'estero... La zuppa... La zuppa con le cipolle... E il... Pure me pare... Le patate... Una cosa del genere tipo a Parigi... A Parigi... E perché non ho provato i lumache... La ratatouille l'hai mai provata? No no... Mai... Ma non ho coraggio... Perché sono veramente strano... Cioè... Come strane? Tutto rispetto... Sono fighe... La ratatouille... Aspetta... Che cos'era? Che non mi ricordo... No però... C'è una specie di zuppa... Vabbè... C'è un sacco di cibi particolari... In questi paesi... Che mi spaventano... A me mi spaventano andare in India... Porca troia... No... Terribile... Però ho mangiato delle cose... In Romania... In Albania... Ho mangiato bene... Però aspetta... In India... Cioè insomma... So che il cibo indiano... Diciamo pure... Cioè insomma... Se mangia... No ma se mangia pure bene... Se mangia bene... Se mangia bene... Però dipende dove vai... Se vai sui street food... Quelli sui paesi... Con marcia due centesimi in provincia... No io ho visto certe persone... Che fanno i video con i piedi... Ah sì... Con i piedi... Che fanno i piedi... Che fanno i piedi... Che cugini che tagliano il prosciutto coi piedi... Eh... Con l'unghia che schifano... Quelli secondo me non so cosa fanno... Secondo me non so... Ma non so tutti così eh... In India non so tutti così eh... Secondo me... Però esistono anche queste realtà... Esistono... Ma secondo me è provocazione... Ma come fanno essere veri quelle cose? No veri sono veri... Ma è come se vai in Africa... È normale... Se tu vai in Africa... Sui paesi quelli... Ma anche in Albania... Se tu vai in Albania... Sui paesi quelli un pochetto più... Campagnoli... Queste cose qua... Te fa pure sta roba qua... Insomma succede pure sta roba... Succede eh? Se cagano in bocca... Eh sì... Pure pure pure... No beh è una gag... No no però... Ho scoperto un sacco di cibi particolari... Ma anche senza uscire dall'Italia... Ci stanno qua... Capito... Già... Che tu potresti pensare... Oddio che strano... Tipo il cuore... Fegato... Cervello... Tante cose... C'è un formaggio con i vermi... Il... Lucazumarzo... Lucazumarzo... L'hai mai provato? L'hai mai provato Lucazumarzo? No no no... Non ci ho avuto il coraggio... No perché? Però adesso lo farei... Perché ero... Perché ero immaturo a livello social... E... Non è... Non avevo matura... Perché ci sono andato... Quasi all'inizio in Sardegna... Nel tour estivo... Tour anche post estivo... Ci ritorneresti? Come no sì... Ma lo proverei adesso... Il Casumarzo... Perché... Ho maturato questa cosa in cui... Non dico... Che nulla mi spaventa... Però cazzo... Ho magnato talmente tante robe nuove... E che... E mo devi arzare il livello... Te devi mangiare l'umache... Mo te devi mangiare i vermi... Te devi mangiare... Ma porca troia... Vabbè sono rimasti quelli... Sono rimasti... Ma se tipo vai in Trentino... C'è stato i boiganederli... Se vai da un'altra parte... C'è stato... Tranquilli so però... Capito? Beh come tranquilli... No dai... Cioè sono cose proprio tipiche... Trentine... Sì però dico so... Robbe tranquille... Cioè alla fine pure... Che me mangi tortellini in brodo... In Emilia... Me mangi cose cose... Me mangi gnocchi... Una roba chill... No... Ma te fai vedere solo... Solo il cibo che mangi... Oppure fai vedere anche il posto... Magari c'è stata una sagra... Fai un blog... Una specie di blog... Che ne so... Cerco di includere un po' di città... Cioè se so di qualcosa... Per esempio... Racconto... Ho raccontato pure di Monterodondo... Che è il posto dove sono cresciuto... Dove ci sono delle cose... Tipo la trattoria... Che ho portato sul canale a Monterodondo... Che ho raccontato un po' di Monterodondo in giro... Monterodondo? Monterodondo... È in provincia di Roma... Ed è appunto il posto in cui vivo... E in cui sono cresciuto... E quindi ho tanto da raccontare magari un po' di aneddote... Un po' di robette in giro... Però comunque quando vado in un posto... Mi informo sul posto... Lo faccio vedere... Come lo scopro anche... Perché alla fine quello che faccio io... Non è tanto giudicare il cibo... Fare eccetera... Sicuramente c'è una parte di giudizio... Perché nel momento in cui tu vai a parlare... De un cibo dici... Ma io voglio sapere se ti piace o no... Cioè non voglio solo... Non voglio... Il pubblico non necessariamente cerca... Una critica oggettiva... Di qualcuno che ne è competente... Perché alla fine... La gente c'ha un palato come... Come noi... Molto semplice... E vuole un po' sentisse in bocca... Mentre guarda il video e dici... Ma fammi senti cosa senti, no? No, nel senso... È quello... L'obiettivo finale è che io cerco comunque... O ci provo quando mi ricordo di entrare nei dettagli... Perché purtroppo so anche un po' una memoria corta... E mi distraggo facilmente... Però il mio obiettivo alla fine... Quando faccio... Quando faccio... Quando magno qualcosa... E tu mi guardi in video... Io vorrei farti sentire un po' come... De che sapore sa, no? Quindi cerco di descrivertelo anche tramite... Tramite delle metafore... Qualche cosa... Sentire un po' come... Un video di tipo... Non tuo... Ma di Franchino il criminale... Sì, di Franchino... Che lui va là e critica tipo alcune robe... Va là... Se mangia le robe... Lui ne sa a pacchi... C'ha 45 anni... Ma tu ne sai a pacchi invece? No... Come lui? È un cazzo... Zero? No, io... Stai prendendo in giro... No, non è vero... È la realtà... Io... Ma la realtà è questa... Cioè Franchino... Per 45 anni... Fai conto per 35... Per 30 anni... Lui ha magnato... In giro per l'Italia... E per il mondo... Per Roma... Le robe... Tradizionali... Io... Per 20 anni... Sono rimasto nella mia bolla del cazzo... Dove non mi fregava niente... E mo... Sto documentando... Quello che scopro... Quindi se io mi vado a mangiare... Le carbonare di Roma... Io vado a vedere come si mangia in giro per Roma... Se vado a mangiare le pizze a Napoli... Voglio scoprire come si mangia le pizze a Napoli... Non voglio andare a Napoli per dire... Sta pizza è buona... Sta pizza non è buona... Quindi tu... Perché io... Magno... Cioè sto a scoprirmo come si mangia... Però... Se la pizza fa veramente cacare... E io dico... Mi fa cacà... È abbastanza palese... Dove non arrivo io... Magari sono i dettagli... Che ovviamente qualcuno che ne sa più di me... Riesce a... A parlarne... Per quello io non sono un critico... Nel nulla... Cioè io sono un esploratore del cibo... Sono un... Cioè faccio il food blogger... In senso proprio di documentare le mie scoperte... Mentre c'è... C'è chi fa il lavoro di critico... Che è un lavoro a sé... Cioè secondo me... Se studi gastronomia... A livello di giudizio oggettivo criticità... Secondo me lo fai... Per dare qualità... Un po'... No? Di aumentare il livello... Di lavorare sul... Sul concreto... Nel fare qualcosa... E aggiungere il tuo... In Italia... E di creare qualcosa... Puoi fare lo chef... Puoi fare un ristorante... Puoi dare la tua cucina... Puoi... Oppure puoi... Volendo... Abbassarti a un livello di content creation... In cui... Come Pratt... Che sta studiando adesso... Cucina... Saperne a pacchi... E essere credibile... Tu dici... Io so... Oggettivamente... Se questa cosa è buona o no... Se è fatta a modo... Se è così no... E hai credibilità... Poi... Io non c'ho magari... Tu punti più sulla credibilità... O punti... O punti di più... Sulla... Io sono più semplice... Non voglio... Sull'intrattenimento diciamo... Ecco sì... Diciamo... Voglio tenere... Compagnia... Voglio essere semplice... Non voglio... C'è una ragazza... Che fa tipo come... Con questa roba qui... Una tipa che ho visto... Che va in giro... Prova... Assaggia... Fa... Giulia... 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 Sì... Che gira con Franchino spesso anche... Giulia Crossbow... Eh... Mi sa che lei... Sì... Sì... Come no... Ma è super simpatica... Super... Veramente top... Sì... Sì... E... Lei... Mi sa proprio una di... Intrattenimento puro... Capito... Ballà... Magna... Fa... Capito... Quella che si merita davvero i numeri che ha... E forse non abbastanza... No no... Secondo me di più ne merita... Sì... Sì... Cioè io proprio una sera sono rimasto così abbagliato... Però tutto quello che ha... Tutto quello che ha finora... Tutto... Tutto guadagnato... Tanta roba... Eh io... Così come lei... Anche i video tuoi eh... Anche i video tuoi... In una sera mi sono messo lì... Insieme all'ex mia... Vabbè... Ciao Gaia... Mi sono messo lì... Vabbè perché la conosce anche lei... Anche lui la conosce... Mi ha salvato la vita... Ti ha salvato la vita... Eh... Mi ha fatto conoscere mi moglie... Tu moglie... Mi ha fatto conoscere mi moglie... Mi ha fatto conoscere... Come tu moglie... Mi ha fatto conoscere... Come tu moglie... Mi moglie... Tu moglie... Sì... Un saluto dalla casa... Ti sei sposato? Come no... No... Mi è cascata la fede... Ah... Stavo a pisciare prima... Mi è cascata nel bagno... Mi è cascata... Oh porca troia... Scusa... Mi è cascata la fede in bagno... Mi stavo a pisciare... No... Mi è cascata... No vabbè però... Che mi stai a dire... Stai a vedere... Sì stavamo a vedere... I video tuoi... E tipo eravamo rimasti tutti quanti a bagliare... Cioè io e lei proprio lì... Stavamo... A guardare i video tuoi... Magari secondo me... E' una che ne sa pacchi... Che mangiale... Pure sul cibo... Poi capirai... Lei viene da... Dal sud del D... Lì si mangia pacchi... La roba... Infatti io ogni volta sto a Napoli... A mangiare le cose... Però... E domani... Lo porto da me... Ah per forza... Che babbaro assoluto eh... Io devo fare assolutamente un TikTok... Devo fare... Devo fare macello là... Ma te ce devo fare... Prova tutto... Dopo lì... Te offre tutto lui eh... Tranquillo... Cioè... Se non te offre lui... Supply... Supply buy... Esatto... Comunque... Stasera tra poco... Live di cucina... Cuciniamo... La griscia... Non è finita qui... Che ora so... Sono le otto e mezzo... Progetti futuri invece su... Che ne so... Vorresti fare il conto in credito tutta la vita... Oppure... Magari in futuro... Vuoi brittare l'azienda... Non lo so... Allora... Sicuramente vorrò... Lavorare a livello... Perché... Allora... Te dico... Tutti quelli che fanno la roba mia... Anche su... Specialmente su TikTok... No... Che lavorano come food blogging... Verticale... Veloce... Tutti... O maggior parte... Che fanno i video tipo i miei... Tipo... Ah... Dove mangiare nei cazzi nel culo... Cioè... Gestiscono le pagine social... Quindi lavorano come media manager... Come media strategist... E fanno questo lavoro... Proprio full time... Via... E fanno un pacchi di esordi... Io non lo posso fare... Perché io voglio fare un youtuber... So stronzo... Io potrei fare una pacca di esordi... A gestire le pagine... Perché tanto so... Ho fatto il fotografo... Ho fatto il videomaker... Ho studiato regia... Eh... Eh... Coso... Direzione della fotografia... Cioè io... Potrei fare una pacca di esordi... A gestire le pagine... Food... Le pagine di... Di ristoranti... Locali... E robe così... Però voglio fare lo youtuber... Voglio fare... Voglio... Di cazzate nel... Nella telecamera... E magnamme le robe... E scoprì... E raccontai... Io che scopri... Voglio fare... Il manso a fare della situazione... Tipo... Il problema sai qual è? Che devo lavorare molto... Infatti devo capire un attimo come fa... Però... Purtroppo io sono una persona che... È poco talentuosa... A livello creativo... Poco talentuosa... Io devo lavorare molto... A livello tecnico... Su... Costruire... Un'immagine... Che sia abbastanza coerente... Perché... Molto spesso... Una persona guarda... Un video mio... Poi guarda un altro... Dice... Ammazza... Però se ho fatto in modo diverso... C'è anche il montaggio... O il modo in cui le riprese... Devo trovare una quadra... Capito... Una persona se deve guardare un mio video... E riconoscermi... No... Per come faccio i video... Anche per come... Già per come parlo... No... Mi è venuto lo slang... Insomma... In maniera spontanea... Come dico le cose... No... Se me l'accollo o meno... Se... Guarda... Però... Ah... Non mi ha dato notifiche... Mi ha scritto... Tu moglie... Sì... Stai a vedere... Ciao... Guardate... Fai una zabbola... Come si chiamava... Aspetta... Non mi ricordo... Margherita... Ah... Ciao Margherita... Ciao... 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 Sacco di roba figa... Dimagrisco... La mando in culo a tutti i bastardi che mentre magno dimagrisco... Che già l'ho fatto... Però adesso mi sono lasciato andare perché sono un coglione... E poi ricomincerò... Mi metto il fisicaccio... Vado in palestra... Divento food gym... Inizio a fare questa transizione... E diventerò un gym talker... Diventerò un... E farò... Come Francesco Zini... Gareggerò nelle competizioni di bodybuilding... Divento... Te su bodybuilding... Divento tutto muscolo... Che poi lui ne sa a pacchi tra l'altro... Tu metto... Divento un bodybuilder... Quindi faccio food... Switcho pian piano... In crude... Faccio bodybuilding... E... Poi mi ammazzo... Ma ce la faresti a fare il bodybuilder? Sai che significa? No... Cioè... Lo so perché sono stato con un bodybuilder... Mentre si preparava ad una gara... E... So che cazzo... Orari fissi... No ma so... Devi mangiare tutto pesato... Siete bene fame... Non puoi mangiare... No ma lo so benissimo cosa vuol dire perché... Ci sono stato vicino... A Danny per esempio ho seguito... Che a Gargiao tra l'altro ha vinto tre gare su tre... Fenomeno... Cioè secondo me è uno... A parte uno dei migliori content creator più stimolanti e più... Cioè a livello bodybuilding è della nuova scena più... Influente e più... Disciplinato... Però... Quello che io non ce posso... Non c'ho disciplina... Non c'ho niente... Quindi devo lavorare su quella... Però le cose le lavorerò e voglio lavorarle per bene... Sia in ambito content creations... In ambito di salute... In ambito di... Beh quello è importante... La salute... La salute prima di tutto... Io se mi faccio un'analisi... Senza la salute vuoi... Il dottor Bavaro... Però no... No però... Se mi faccio un'analisi... Fin quando te si arsa... Beh beh... Fin quando te si arsa va bene dai... Vabbè fin quando me si arsa va bene... Va bene un po'... Va bene un po' tutti... Sì sì... La voglia... La voglia... Però no... Ehm... Voglio... Fai video meglio... Impararmi a comportare meglio... Sta un po' più tranquillo... Con la testa sulle spalle... Ehm... Risparmia sordi... Devo smettere di spendere i sordi... A cazzo... Ehm... Mettemi meglio di salute... Perché c'è problemi di... C'ho le mani bucate... D'azzardo... Cioè che giochi d'azzardo... No no... Anzi... Lo sai che io... Nonostante... Avessi... Giocato d'azzardo in passato... Non mi è mai venuta la dipendenza... O è assurdo... Eh... Nemmeno me... Nemmeno me... C'è stato un periodo in cui ho giocato... Tipo... Su Twitch... 14 mila... Sì sì... Ho giocato su Twitch... Ho fatto il panico... Per il totale... Ho fatto... Basta... Hai guittato tutto... Ho guittato tutto... Perché ho detto... Cioè non... Non ne vale la pena... Non ne vale la pena... Non ne vale la pena... Mi piace guardarlo... Perché i miei amici guardano... Cioè i miei amici se la ballano... Assai la fresca... Eh... Se divertimo un sacco... A... A fare cazzate... Poi... Cazzi loro... I sordi loro... Cazzo me ne frega... Però... Ecco io non sono mai caduto in sta roba... Anche perché già... Cioè più che altro... Ma piuttosto che ballammeli... Con la speranza che... Come un coglione... Che ritornano... Che aumentano... Ma uno... Ma me compro una cazzata... Mi sono comprato... Le cuffie da 600 euro... Mi sono comprato... Perché sono carine... Vabbè quello è un investimento... Dai... No no... Ah solo perché ti piacevano così... No... Erano carine... Le cuffie della Apple... 600 euro... Perché hanno il coso... Che ti isolano il suono... Se collegano bene... Con tutti i dispositivi... Apple... Dei cazzate... Come me su Erson... Un gioco morto... Che non zruccaga nessuno... Ieri ho preso... Ho scioppato 300 euro... Per sfizio mio... Perché mi piace... Mi piace il gioco a carte lì... Su Erson... Perché mi piace il gioco... Anche se... Come quelli su FIFA... Cioè tutti abbiamo... Le cose... Le passioni... Le passioni che ci costano... Però... Per gli amici tuoi... Non è una passione... Cioè da quello che ho capito... È proprio... No è una passione... Perché se ballano la fresca... Quei soldi che guadagnano... Comunque... Cioè fanno i soldi... Lavorano... Se ballano la fresca... Se giocano il casino... Eh ma... Lavorano... E poi se giocano un po' di... Cioè non è che... Ma è ludopatia... Quella non è ludopatia però... È tipo divertimento... Cioè non fanno... Non penso siano così... Malati... Forse alcuni... Non so però... Vabbè vabbè vabbè... L'importante è... Non giocate d'azzardo... Piuttosto che spendetemi sigarette e fumate... Assolutamente no... Scherza è una gag... Non lo fate ovviamente... Cioè spero che si... E una volta lo feci per content... Cosa? Eh prende... Ciceva... Andavo là per... Ho detto... Tanto... Marco e vada... Sto a 2000 euro sotto... Ho detto... 2000 euro sotto... Spendevo... 100 euro al mese... O 100 euro a settimana... Non mi ricordo... Però erano gli ultimi 80 euro... Cioè pensi i soldi che tiene questo... Per non ricordarsi se spende 4 piotte o 100... Cioè per una piotte o 4... Vabbè... Io invece faccio la fame per 4 piotte... Non so manco serio vivo... Il giorno dopo... Praticamente niente... Per un euro... Mi sono rimasto 80 euro... Sul conto... Oddio... Ci abbiamo solo una telecamera adesso... E ora... Ci abbiamo solo una telecamera... Quindi ci dice proprio che... E ora... E quindi niente... È una certa... Scusa un attimo... Questo è quello che si vede eh ragazzi... Cioè... Vedete questo nero... È esattamente la camera che è fino a fatto... Esatto... E praticamente nulla... C'avevo l'ultimo 80 euro... Ho detto... Che ci faccio... Questi 80 euro... No... Sono quelli dei 14.000... Eh... Sono quelli dei sordi che hai vinto la big... No no no... Prima che vincevo... Di 80 euro che faccio... Boh... Non sono mai giocato le slot... Vado... Perché io facevo solo blackjack... Ah... Sì sì sì... Mi sono tutto accittato... Che ride... Eh... Esatto... Poi... Sono andato lì sulle slot... Ho detto... Ma compro un bonus... Pfff... A culo... Ma a culo... Totalmente a culo... Cioè... Quello è bucio di culo... Non è... Sì esatto... Cioè... T'ha deciso di blessare... Il casino così... Ho detto... Dai... Ho detto... Ok... Da 80 euro sono arrivato a 2.000... Che faccio? Ritiro... Oppure continuo a spettare... Intanto alla fine... Li uso per... Intanto... È solo per il content... Quindi che ho detto... Ho preso 2.000 euro... Sono spesso tutti i 2.000 euro... Sono arrivato a 10.000... 15.000... Poi 20.000... 25.000... Ma a culo eh... Totalmente a culo... Io lo dico sempre... Non lo dia l'amice mia... Che si ballano sti 2.000... Alla fine ho detto... Sono arrivato a 25.000... Ho perso 10.000 euro... In una settimana... Ho detto... Mi sa che è l'ora di... Ritiro tutto... Però hai fatto profit... Sì sì... Cash out... Faccio... Ritiro tutto... Ritiro e via... Ci si paga... Ci si paga le tasse... Come dice un amico mio... Dice... Ah oh... Me ballo per casino... Al massimo... Me paga le tasse... Esatto... Però beh... Ma comunque... Sono contento... Voglio diventare... Voglio diventare bravo... A fare cose... Perché non so... Dai eh... Però... Secondo me meriti eh... Perché le capacità ce l'hai... Però minchia ci ho messo 10 anni a... 12 anni a fare lo youtuber... Mo in due anni... Ho fatto già le cose... Tutto quanto eccetera... Minchia... Mi c'è metto di tempo... Per fare cose bene... Cioè... Potevo imparare a fare i miei video... Sti 10 anni... Invece no... Ancora devo imparare... Che palle oh... Eh io in 8-9 anni... Che faccio streaming... Ancora... Ancora non ti sei imparato... No no... Beh ho imparato tutto... Ho imparato... Videocamere... Roba e tutto... Però video editing... Ah quello no... Esatto... Quello no... Non è che non ce l'ho voglia... E me ce vuole tempo... Capito... Ah sì... E poi... Non ce l'hai... Quindi... Come... Esatto... Esatto... Non c'è tempo... Comunque è bello... Stava molto bello... Se cuciniamo qualcosa... Dai eh... Andiamo a cucinare una bella grigia... Sì sì sì... E voi hanno donato... Dopo andiamo a salutare tutti... Andiamo a salutare... Sì sì... Questo qui era un piccolo talk show... Iniziale... Dove vi presentavo l'ospite... Ma lui... Oltre ad essere un foodblogger... Eppure un cuoco... E adesso... Andiamo da là... Andiamo a vedere... Beh dai un cuoco... Dai se la sai cucinare... Mi piace cucinare... Sono un cuoco di casa... Mi piace cucinare... Come un cuoco di casa? No... Roba che tipo... C'è sto io... Mi moglie... Mi figlio... Cucino io... Capito? Un figlio... C'è un figlio... Sì... William... C'ha due anni... Lo sa... Vabbè lo scoprate adesso... C'è sta che gli frega... William... Due anni... La fatti... Vabbè lo fatti due mesi fa... Due anni... Veramente... C'è una foto? Aspetta... Eh... Mo' oggie devo cercare... Per cazzo... Non è una faccia... Si prende per il culo... No... Ah... Un P... Cazzo... Era così credibile... Veramente... Era così credibile... Che veramente... Mi sembrava... Veramente... Che c'avesse un figlio... Infatti ho detto... Ma può essere... No no... Tutto può essere... Tutto può essere... C'è una mia con mio che... All'epoca... Fece un figlio... Quando c'aveva 15 anni... È come no... La mia ex... 15 anni c'hanno fin... Vabbè... Questi sorti di discorso... No vabbè... Anch'io ho avuto... Quest'esperienza... Per fortuna non è mio... Però beh... Sì sì sì... La gente c'ha la fretta... Ormai ha 12 anni fa... Che mo' per mettere a fuoco... È un casino... No no no... Vieni qua... Vieni qua... Vieni qua... Pa 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 pa... Pa 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 pa... Eccolo eccolo... Arriva arriva arriva... Sì sì sì... Dai ci siamo... Guarda che bello che ha... Ste ottiche guarda... Eh... Quante ne sa cagano... Allora... Andiamo da là... A cucinare... Pronti... Chef... Go... Let's go... Andiamo... Che domani ti porto pure... La Lugia va a Barbo... Domani... Ci si diverte... Allora... Switch un attimo di là... E arrivo eh... Andiamo... Allora... Allora... Allora...